Ciao, buonasera a tutti, bentrovati alla nostra diretta delle ore 19 come ogni sera Sandro Torella Acting Coach, la pagina Facebook e poi le repliche le troviamo successivamente sulla pagina Sandro Torella che sono sempre io su Youtube, la mia pagina personale bene, siamo ancora in questa situazione così molto particolare, ciao Rita, bentrovata questo cambiamento epocale che ci porta dalle strade alla dimensione più casalinga e tecnologica stanno cambiando le nostre abitudini, Oksana, Andrea, bentrovati e lo smart work, questo lavoro da casa, questo smart work, questo prodursi in digitale questo cambiamento storico che sta avvenendo, io non so di preciso quello che sta accadendo e la mia immaginazione viaggia, io per esempio non conoscendo più la mia città perché non so quello che sta accadendo, Angelica, bentrovata non so quello che sta accadendo, sto immaginando delle cose ad esempio che la stiano cambiando Giorgia, eccoci e allora magari che ne so, ciao Valerio, eccoci, bentrovato credo che stiano cambiando le cose intorno a me perché non posso più vederle Gerardo, Jenny, buonasera e allora penso che ne so, magari vado in centro e trovo il partenone ci stanno a fare uno scherzo, capito? ci avremo il golfo di Torino, la mole Antonelliana a Bergamo può darsi che stiamo spostando le cose e tu quando ritorni alla realtà è tutta diversa che ne sai, Sandra? chissà come sarà il mondo dopo, no? il tevere biondo, stavolta proprio pure un po' allaccato adesso sembra che mi raccontava Maria che vive al centro di Roma che ha sentito le rane Isaac, ciao Francesca, bentornata Walter, buonasera capito? le rane al centro, cioè una cosa che non si sentiva penso dai tempi della guerra Alessandro, ciao, buonasera e io immagino proprio che stiano cambiando le cose intorno chissà come ritroveremo le nostre città dopo questo periodo come ritrovo casa? sono 798 mattonelle di cui due lievemente intaccate ciao Marianna, ciao Renato, Rosalba, Camilla, eccoci tu hai i piccioni in balcone io ho i cd che sarebbero degli strumenti per mandare via i piccioni perché sembra che preferiscono insomma YouTube insomma vanno via lo provate tutte col cd sembra che si intranquillizzino Luana e vabbè saluto pure io ma noi ci dobbiamo salutare è una cosa bella questo è un incontro questa lezione nasce come saluto e poi diventa anche un po' lezione ogni tanto io intanto vi anticipo che stiamo approfondendo questo discorso sul monologo che in qualche modo ci tornerà anche in futuro ma domani comincia una nuova era domani parleremo di di recitazione cinematografica io volevo affrontare questo discorso della telecamera ciao Maria Teresa Marco bentornato e ne approfittiamo già domani per cui domani parleremo tecnicamente del cinema come funziona come funziona il lavoro attoriale rispetto alla telecamera al microfono quando stiamo su un set il lavoro dell'attore dal punto di vista interpretativo è sempre lo stesso ma dal punto di vista tecnico cambia qualcosa se lavoriamo per il cinema e lavoriamoci a Fabrizio per il teatro ok buonasera Francesco eccoci e allora capiamo come funziona quali sono le differenze quali tecniche utilizzare per quale motivo e quale abilità affinare perché sebbene il lavoro sia lo stesso però lavorare per il cinema è una cosa ottenere un risultato per il cinema è una cosa ottenere un risultato sul palco è un'altra capiamo le differenze come funziona e come applicare soprattutto in campo audiovisivo cinematografico le nostre abilità abbiamo parlato fino ad oggi insomma in questi giorni del monologo e vi ho dato qualche esempio qualche esercizio Elisabetta bentrovata Sabrina eccoci bene ciao Walter allora gli esercizi che vi ho dato stanno sulla mia pagina per cui avete i testi sia del Dio del Massacro per cui qualcuno mi ha già spedito i video qualcun altro la traccia audio se volete che il video venga pubblicato in questi giorni ne pubblicherò un paio al giorno mandatemeli sulla mail del sandrotorella.it per cui info chiocciola sandrotorella.it mi mandate un file con WeTransfer io poi lo pubblico così possiamo vederlo e confrontarci in descrizione vi metto magari un commento una mia ciao Alessandra una mia considerazione è quello che posso chiedervi per migliorarlo o comunque quello che io vedo è cosa posso darvi cosa vi direi da regista ciao Ivan Giacomo eccoci mi fa piacere Giacomo lo sai grazie e ok e questo qui è un'occasione anche per confrontarci e per conoscerci in maniera pratica chiaramente lavorare con un video registrato e spedirlo non è mai l'ideale ma è quello che possiamo permetterci oggi tra l'altro e domani parleremo di cinema e inizieremo a lavorare su questo apposta sto facendo delle lezioni tramite Skype dal punto di vista pratico io non sapevo a cosa saremmo andati incontro perché chiaramente è una cosa che non avevo mai utilizzato prima come strumento tecnico per le lezioni chiaramente devo dire che è chiaro per il teatro un po' è limitante soprattutto se non ci conosciamo perché certe cose non riesco a passarle così tramite il video e non riesco a capire tramite video e microfono del telefonino o del computer che cosa realmente stia accadendo dall'altra parte è impossibile creare delle tensioni a distanza anche se poi ve lo posto abbiamo fatto un esercizio a 4 ve lo faccio vedere in modo che vi rendete conto di che cosa accade provando a lavorare su Skype chiaramente invece dal punto di vista diciamo del lavoro per esempio sulla dizione fonetico riusciamo a ottenere dei risultati per il lavoro in telecamera lavorando come se fosse un campo o un controcampo beh come strumento non è male anzi direi che è interessante perché ad esempio se stiamo in tre persone io osservo e chi mi vede cioè chi sta lavorando vede anche me che posso direttamente fare cenno su qualcosa che non funziona o che potrebbe essere fatto in modo diverso beh come interazione non è male per studiare il cinema è uno strumento diciamo possibile preferisco sempre lavorare dal vivo però diciamo la tecnologia alla quale siamo obbligati in questo momento e io temo che ci sarà anche una variazione un po' nelle abitudini insomma ecco dobbiamo farci un po' i conti io inizio a anticiparli questi conti perché andranno fatti senza dubbio cambierà molto io credo stiamo vivendo un periodo molto particolare ho fatto un sogno che manco ve lo racconto guarda oggi ho visto anzi rivisto codice d'onore mi dice Gerardo ho pianto in continuazione secondo te mi devo preoccupare non riuscirò a fare mai la parte dell'avvocato mi commuovo troppo no preoccuparmi no il fatto che uno si commuova è una cosa molto positiva cioè il fatto che hai la possibilità ti stai esprimendo stai in relazione con l'esterno è una cosa buona essere aperti emotivamente liberi di esprimersi è una cosa importante dobbiamo lottare e lavorare sulla chiusura cioè per superarla nel momento in cui riesci a vivere quello è vivere ce la farai a farlo assolutamente si io te li ho mandati sulla chat messenger della pagina ok se si mi rimandi tramite mail Francesco è meglio nel senso se vuoi che venga pubblicato sulla chat di messenger non sempre riesco a vederli perché se il file è molto pesante non lo carica bene insomma mi blocca il video altrimenti lo vedo lì e poi ho la possibilità di caricarlo sulla pagina successivamente tramite la mail ok bene allora veniamo al dunque ah dovevo fare una dovevo dare una risposta a Valerio perché l'altra volta mi ha chiesto del calabranzi di Pinter che cosa ho sognato vabbè ma ve lo dico no mi viene insomma una cosa allora calabranzi di Pinter Pinter è uno degli autori che soprattutto nei primi testi un autore diciamo considerato del teatro dell'assurdo soprattutto per i primi testi che ha fatto e e praticamente nel calabranzi ciao buonasera nel calabranzi ci sono questi due personaggi che se li vediamo dal punto di vista ed è un'analisi che secondo me è pertinente di analisi marxista vogliono rappresentare in qualche modo l'operaio e il diciamo l'operaio e il manager ci sono due figure che fanno parte della stessa classe sociale ma in due dimensioni diverse e in parallelo penso che quel testo racconti molto la dimensione odierna e soprattutto questo momento di passaggio è per quello che volevo parlartene e parlarne chiaramente a tutti se lo vediamo in quel senso e la notizia che arriva dall'alto il calabranzi altro non sarebbe in questo senso che l'ordine di un potere occulto di un potere nascosto che viaggia attraverso questo questo ascensore che altro non è che il il sistema del capitale allora quel quell'inizio potrebbe anche io potrei vederlo o materialmente per quello che è cazzo guarda che notizia semplicemente questo poi è un linguaggio molto tarantiniano nel senso che poi Tarantino ha preso spunto proprio da quel tipo di linguaggio anche un po' surreale anche un po' su questi killer così spietati e strani grotteschi ecco mi dà molto di di pulp fiction ecco oppure potrebbe essere proprio il timore che ha il controllore del sistema del capitale nei confronti dell'operaio impiegato dell'esecutore che deve in qualche modo attenuare la sua voglia di crearsi dubbi e allora quel vederlo fare avanti e indietro dal bagno è un modo come dire di controllarlo di bloccarlo ok allora quel cazzo iniziale potrebbe essere una cosa come a dire fermo vieni qui attenzione basta adesso fai attenzione a una notizia e gli leggi una notizia che è illogica no è un po' grottesca se vogliamo anche stupida potremmo leggerla così poi chiaramente si può leggere anche in maniera molto più semplice e molto più lineare come semplicemente una richiesta d'attenzione momentanea punto e rimaniamo nel gioco dei due personaggi strambi e fine del discorso se vogliamo dargli quella chiave di lettura e in Pinter quel tipo di di critica al capitalismo ce l'abbiamo in più testi e in genere nel teatro dell'assurdo allora ok potrebbe essere una soluzione vengo al sogno che era legato invece a questa cosa qui a questo testo il re muore questo qui è un altro testo di teatro dell'assurdo tra l'altro mi veniva da dire perché lui si chiama Ionesco resto a casa Ionesco ed è un autore importante la cantatrice Calva è un autore nato in Romania d'origine metà romana metà francese e lui ha scritto fra gli altri la cantatrice Calva sarebbe un testo pieno di assurdità cioè lui era uno che laureato in lettere non amava il teatro e scrive sì Valerio molto tarantiniano io lo vedo molto così ma l'ho sempre visto molto così quel testo Ionesco era un non gli piaceva il teatro cioè lo vedeva come una cosa molto barocca o comunque non non espressiva e allora ha scritto come primo testo la cantatrice Calva che era un insieme di non senso di idiozie buttate lì e invece alla fine è nascito fuori un testo che è uno dei più rappresentati e niente da lì altri testi tra cui questo qui forse è uno dei più importanti che è scritto il re muore è proprio la storia di un re di un regime di una realtà che potrebbe essere in parallelo vista come anche una realtà di una grande azienda possiamo vederla come vogliamo è un reame che si va dispacendo e un re che muore che sta per morire e poi si riprende sempre non muore mai e mori e questo qui non muore mai e intorno ci abbiamo oltre al re le altre figure il soldato le due regine che rappresentano insomma le due anime femminili una più logica l'altra più istintiva amorevole e poi c'è questo personaggio e vengo al sogno che è il personaggio del medico astrologo farmacista tuttologo puttaniere insomma una figura un pochettino particolare che in questo tipo di 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 divisione della realtà ecco la medicina è vista proprio come una specie di magia come una stregoneria ecco e allora questa cosa mi evocava molto il momento odierno e allora ho sognato qualcosa molto simile al virus letame di cui parlavamo all'inizio e ho immaginato questo re che si vaccinava entrando dentro un ospedale e dando una boccata d'aria perché se è vero che il principio del vaccino è quello di prendersi il virus che è un'altra cosa che a me mi fa un pazzino cioè nel senso questo è un periodo in cui si dice oddio 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 c'è il virus ci vorrebbe un vaccino il vaccino è il virus per cui dici tu un bocchino in ospedale hai una boccata d'aria e ti sei preso una porzione che ti serve per star bene allora questo qui entra te hai una boccata d'aria e non muore più ok poi quando mi sono svegliato ho detto mamma e allora poi ci ho pensato perché non so normale e allora ho detto vedi come si potrebbe risolvere il problema si risolve così praticamente arriva uno che sta male e che non respira che fai tu metti una fila dei malati dei persone che stanno bene che vogliono vaccinarsi e praticamente fanno a turno gli danno una soffiata per uno tipo respirazione bocca a bocca così quello si salva e loro si vaccinano capito questo qui per quanto riguarda il virus polmonare virus letame è la stessa cosa mai capito niente adesso veniamo a noi e alla nostra lezione ora che ho detto un po' di di sfondoni possiamo passare alla lezione anche se però ve lo dico c'è il principio del vaccino è quello nel senso di prendere una porzione di per cui dal punto di vista logico il sogno ha una sua logica bene faccio sogni logici ora veniamo a noi ieri abbiamo visto un paio di di monologhi in particolare quello di codice d'onore il vaccino naturale Alessandro il vaccino è naturale questo allora uno non serve il brevetto ok perché quello è proprio quello giusto per cui non serve ma ancora il brevetto è una boccata a testa quello si serve e l'altro pure è meraviglioso a costo zero è veramente un sogno quando io sogno ragazzi è la mente atavica che cammina lascia a perdere bene allora il codice d'onore sì quello che non te strozzate ma che il cavallo del coso non mi ricordo i proverbi però sì è quello Alessandro sì codice d'onore il monologo che vi ho suggerito è molto ben strutturato qualcuno l'ha fatto vi consiglio di rifarlo con molta precisione va imparato bene prendetevi pure i vostri tempi poi me lo spedite così poi ci confrontiamo l'obiettivo non so se ve l'ho detto ieri l'obiettivo di quel del personaggio in quel monologo è convincere il giudice convincere la giuria d'accordo per cui concentriamoci su quello è bene che uno sappia con chiarezza che cosa che cosa vuole dire dobbiamo studiarlo molto bene perché se stiamo se stiamo in una dimensione un po' così diciamo tentennante dal punto di vista della memoria non ce la facciamo poi a produrre un risultato efficace dobbiamo saperlo molto bene e concentrarci assolutamente sul convincimento dell'altro della giuria anche dal punto di vista esecutivo vi ricordate le prime lezioni sembro tipo adesso vi ricordate la cosa di Sonia la posta di Sonia di Bambino vi ricordate le prime lezioni adesso un cartone animale sembra un po' così allora le prime lezioni ho fatto anche con Matteo Belli la proiezione vocale ok considerate che state dentro un tribunale la voce rimbomba ma se la tiri fuori se la proietti in avanti capito non c'era veleno sullo straccio non c'era la voce va portata si dice no mi serve una proiezione tale da giustificare la presenza di altre persone che assorbono il suono e che alle quali a distanza deve arrivare il suono dobbiamo convincerli bene e poi è importantissimo stare attenti concentrati sull'obiettivo non perdetelo mai l'obiettivo altrimenti non c'è la scena i passaggi interni che vi ho descritto servono per rafforzare lo schema la strategia che sta già nel testo e che noi sperimentiamo attraverso l'esecuzione ma la cosa fondamentale è mantenere l'obiettivo stabile io devo essere concentrato e attento sul convincimento altrui quello è quello che devo che devo focalizzare e che non devo perdere mai perché in alcuni video ho visto che si tendeva a perdere questo elemento fondamentale l'obiettivo quello mai ok ora vi leggo se vi interessa magari poi potete anche provarvi questo vi posto anche questo a conclusione del discorso codice d'onore l'altro monologo questo qui è il brano che dice Jack Nicholson quando viene aggredito durante il durante il processo chiaramente lui viene messo sotto pressione dall'avvocato che tenterà proprio in questo momento di tirargli fuori la verità attraverso la leva dell'orgoglio ok lui capisce il gioco che sta facendo l'altro ma in maniera anche un po' masochistica è come se volesse cascarci perché perché dentro di sé la voglia di sfogarsi di di esprimere il suo orgoglio e la sua potenza è più grande anche del rischio del carcere ok l'altro lo fiuta e cerca di far leva proprio su questo quando lui e questo qui è diciamo una delle frasi più conosciute del film e non solo in genere del cinema per cui ve la leggo così capiamo di che cosa sto parlando quando lui gli fa tu vuoi delle risposte come dire il ragazzino imbecille vuoi delle risposte e quell'altro gli fa io voglio la verità risposta tu non puoi reggere la verità non puoi reggere la verità figliolo viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile chi lo fa questo lavoro tu io ho responsabilità più grandi di quelle che voi possiate mai intuire voi piangete per santiago e maledite i marines potete permettervi questo lusso vi permettete il lusso di non sapere quello che so io che la morte di quel ragazzo nella sua tragicità probabilmente ha salvato delle vite e la mia stessa esistenza sebbene grottesca e incomprensibile ai vostri occhi salva delle vite e qui no diciamo si sente bello soddisfatto cambio voi non volete la verità perché nei vostri desideri più profondi che in società non si nominano voi mi volete su quel muro ok cioè quello che che azione sta facendo si sta da un lato si esalta per il ruolo che ricopre dall'altro si mette in una condizione cioè nonostante quello che sto facendo per voi per il bene della nazione voi mi mettete alla gogna e io lo so e sto fronteggiando anche questo e adesso ho l'opportunità di dirlo davanti a tutti opportunità su cui falleva l'altro per ottenere il risultato io vi servo in cima a quel muro a quel punto spiega il perché noi utilizziamo parole come onore codice fedeltà che sono dei valori importanti possono essere importanti anche nella vita di tutti i giorni nella vita civile usiamo queste parole come spina dorsale di una vita spesa per difendere qualcosa per voi non sono altro che una barzelletta io non ho né il tempo qui c'è un cambio e va verso senti Chicco via io non ho né il tempo né la voglia di venire qui a spiegare me stesso vedete la grandezza a un uomo che passa la sua vita a dormire sotto la coperta di quella libertà che io gli fornisco e poi contesta il modo in cui gliela fornisco preferirei mi dicesse la ringrazio e se ne andasse per la sua strada altrimenti qui scatta il militare altrimenti gli suggerirei di prendere un fucile e di mettersi di sentinella qui taglia corto in un modo o nell'altro io me ne sbatto altamente di quelli che lei ritiene siano i suoi diritti ok un uomo che va oltre la legge perché la sua posizione il rischio e gli alti valori che sta difendendo rischiando la sua stessa vita lo mettono nella condizione di essere in via assoluta superiore agli altri all'altro e anche al concetto di legge e di giustizia questo qui sarà la sua condanna perché a quel punto l'altro insiste ordino a lei quel codice rosso ordino a lei certo che l'ho ordinato che cazzo vuoi ok a quel punto esplode e lì si trova incastrato perché in pratica ha testimoniato contro se stesso però come arrivi a questo ci arrivi con questo crescendo con questo desiderio interno lavoro sull'obiettivo come scrive Giuseppe giustamente perché se io ho questo desiderio chiaramente l'obiettivo iniziale va a contrasto con quel desiderio se non altro la strategia che sta utilizzando però poi se vengo sollecitato esce la mia dimensione più profonda di personaggio io non vedo l'ora che qualcuno mi aggredisca su quel punto perché lì divento violento lì divento esplosivo su quello nessuno può dirmi nulla sto davanti a 4.000 cubani che vogliono uccidermi e devo stare a rendere conto a un ragazzino ok che vive agiatamente grazie a me che sto con il fucile lì davanti ok e allora questo mi porta a tirare fuori questa forza ora il rischio in questi brani soprattutto se andiamo a rifarli dopo che li ha fatti un attore come Nicholson e via dicendo è quello di andare ad imitare la cresta dell'onda cioè la modalità esecutiva magari anche quella spinta quell'energia ma quell'energia devo trovarla dentro di me lavorando su queste leve non posso andare ad imitare qualcosa esteriormente perché non funzionerà mai non solo non avrà quel carattere ma soprattutto sarà vuoto sarà un tentativo scadente di portare in scena un'imitazione non funziona in quel modo devo lavorare obiettivo strategia e leve interne dal punto di vista proprio energetico emotivo che mi spingano a reagire a qualcosa che subisco dall'altra parte e allora uscirà fuori una mia interpretazione un mio modo che ha una dimensione oggettiva ossia il lavoro su queste leve è una dimensione soggettiva che è la mia modalità che sarà diversa da quella di un altro ora per completezza stiamo parlando di cinema in questo caso come ho detto da domani ne parleremo nello specifico tecnico ma questo qui si può fare a teatro noi l'abbiamo fatto come esercizio a teatro per cui si può fare e credo che nasca proprio come testo teatrale questo tra l'altro si presta molto questo brano lui lo interpreta molto molto fermo e in una dimensione di quel genere di film anche il linguaggio anche la costruzione dal punto di vista proprio della scrittura accompagna molto quel linguaggio cinematografico e chiaramente anche l'interpretazione è stata fatta con grande abilità in linea per cui lui è molto fermo molto rigido e pronuncia queste parole non puoi reggere la verità figliolo viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere sorvegliati è molto fermo muove quasi soltanto la bocca perché perché in quel tipo di disegno cinematografico è bene che l'interpretazione venga resa con quel tipo di soluzione scenica e allora l'attore poteva essere bravo ad accompagnare il linguaggio del film per linguaggio non intendo le parole intendo il genere la tipologia di racconto il modo in cui viene raccontato dal punto di vista audiovisivo quella storia Alessandra ciao Sandro grazie per questa bella iniziativa e la gioia che ci regali grazie a te è una gioia anche per me parlarvi sappiatelo non è facile stare concentrati sull'obiettivo per tutto il resto c'è Mastercard ah per tutto il testo per chi non è ancora in grado di starci dentro quale può essere l'elemento che fa da filo conduttore sempre l'obiettivo Maria Teresa anche se ancora uno non ci sta dentro perché ci vuole tempo dobbiamo imparare a stare concentrati su quello l'attenzione è quello che è la fiducia la parola chiave per un attore attenzione è fiducia mi devo fidare che lavorando in quel modo prima o poi ci arrivo se invece io mi concentro sul risultato ho perso in partenza capito è lì che dobbiamo dobbiamo insistere con grande fiducia e anche perché ripeto oggi ho fatto ho fatto un incontro lezione nel senso abbiamo fatto con Matteo Belli una bella chiacchierata che abbiamo registrato e che pubbliceremo credo domani insomma a brevissimo proprio su questo legando il discorso espressivo e il discorso interpretativo ne è uscita fuori una cosa a mio parere molto molto interessante molto bella per cui ecco avrete modo anche di di vederlo come il nostro ex ministro dell'interno non so chi sia vi giuro io non so nulla allora trovo il lavoro sull'obiettivo molto efficace mi dice Giuseppe alla fine anche nella vita reale tutti quanti abbiamo un bambino piccolo piange e fa i capricci con l'intento di avere l'attenzione assolutamente infatti funziona così la vita diciamo infatti con Matteo Giuseppe mi dice ripetere tutto con gli occhi chiusi collegando gli esercizi sensoriali sì ti può aiutare immaginare anche occhi chiusi ci aiuta è sicuramente un esercizio molto molto utile poi dopo esci nel senso io gli esercizi di solito li faccio al di fuori della scena cioè esercitare la scena col sensoriale tendo a non farlo poi ognuno fa quello che gli pare però ecco io farei gli esercizi da una parte e poi il lavoro sulla scena in maniera molto concreta ok per quello è così aggressivo lui sì ha paura come c'è anche oltre a un timore c'è anche un desiderio proprio di è uno che che in qualche modo ha rischiato sta rischiando la vita ha bisogno di valorizzarsi e quella è un'ottima occasione più che altro si trova davanti quella parte di sé che non vorrebbe mai vedere il ragazzino pulito da fastidio soprattutto per uno che ha un altro un altro carattere un'altra si è creato l'altra strada e magari quel ragazzino rappresenta la parte di sé che lui vuole negare a tutti i costi rivederselo così spocchioso davanti io lì troverei la chiave espressiva perlomeno dovessi interpretare io qualcosa di simile andrei a trovare lì la chiave che che mi fa arrabbiare ecco diciamo così il ministro dell'interno non so chi sia io da questo punto di vista ho poca conoscenza è un marine il ministro dell'interno ah no il il colonnello è un marine poi in realtà tutte e due uno è una guardia marina che fa l'avvocato insomma diciamo non è mai preso un fucile in mano ha preso soltanto una Montblanc l'altro invece è un colonnello insomma una storia di guerra e via dicendo rispondeva Roberto a Giacomo ok come il nostro ministro dell'interno perché Giacomo aveva detto un bambino che ha paura ok vuole il riscatto e il rispetto che gli è dovuto perché lui è un soldato un guerriero precisamente sì l'atteggiamento è precisamente quello vuole essere riconosciuto poi del resto come ognuno di noi no spesso anche fare gli attori è un modo per essere per sentirsi riconosciuti ed è una spinta che ci porta lì poi se riusciamo a capire piano piano che ci interessa poco invece quello che dicevo oggi con Matteo io lo definisco fare una sorta di simulazione della realtà noi riusciamo attraverso questo lavoro questa attività prima che che lavoro insomma proprio attività questa modalità espressiva questo studio noi riusciamo a capire noi stessi come funzioniamo e in qualche modo a simulare una realtà nuova una realtà parallela nel simularlo noi troviamo la nostra realtà cioè l'autenticità la verità sarebbe questo è l'essere in contatto con noi stessi per riprodurre la vita è questo che poi io pure quando ho cominciato volevo essere riconosciuto nel senso avevo il desiderio di di sentirmi riconosciuto di bravo grazie bene di sentire poi se capisci bene come funziona il meccanismo scopri altre cose che sono molto più interessanti di quella allora quella puoi prima piano bypassarla non ve la tolgo ci sta tutta ed è buona parte però poi vedrai col tempo che è molto più interessante scoprire come funzioniamo è molto più affascinante perlomeno per me è di gran lunga più affascinante fare questi incontri con voi per me è una cosa importante mi piace mi piace tanto perché è qualcosa che che mi fa sentire vivo mi arricchisce è è qualcosa che che ti mette a contatto con te stesso ok allora se non abbiamo altre domande di questo tipo bene questo l'abbiamo provato ci sono altri monologhi che vorreste sentire io avevo proposto vi avevo detto ecco ci sono alcuni monologhi che vengono fatti spesso nei provini anche quelli ecco se avete qualcosa di simile che volete propormi o chiedermi poi possiamo anche in futuro in futuro parlarne ce ne sono altri tipo questo qui che ho preso di un altro testo di Yasmina Reza non è il carnage quello che abbiamo visto ma questo qui è un testo il primo che ha scritto che si chiama Arte ed è molto carino e praticamente è la storia di tre amici due sono un po' più sofisticati uno è un dermatologo di successo l'altro è un ingegnere tutti e due amano l'arte però l'ingegnere Mark ama l'arte classica i quadri il Caravaggio capito i quadri che hanno non ama l'arte contemporanea al contrario dell'altro che forse anche un po' per ripicca inizia ad appassionarsi a queste gallerie d'arte a frequentarle anche pure un po' forse per snobismo non lo sappiamo e allora si vanno a scontrare perché per un periodo si vedono un po' a meno il terzo amico si chiama Ivan Ivan ed è un invece un ragazzo molto semplice lavora dentro una cartolibreria un ragazzo insomma diverso rispetto agli altri due che sono un po' più attaccati a questo tipo di all'arte alla ricercatezza l'altro è molto più semplice e praticamente i due vanno in conflitto perché Serge questo dermatologo a un certo punto nel frequentare queste gallerie è divorziato dalla moglie è iniziato a diventare un po' snob e si è comprato un quadro bianco ok e allora chiama l'amico per farglielo vedere un quadro molto costoso completamente bianco e allora anche questo è un monologo ve lo leggo la parte iniziale vi faccio vi leggo qualche piccolo estratto per farvi capire un'altra dimensione del monologo questo è teatrale allora dice Valerio si parte dal bisogno dell'applauso e godere di quel rumore e poi si subentra a voler scoprire chi si è perché si ha bisogno di quelle tavole eh sì sono due cose Stanislaschi diceva l'interpretazione lo stare sul palco è una solitudine pubblica che credo che sia una definizione straordinaria il bambino che vi dicevo l'esempio di quel bambino di due anni che è salito sul palco si guardava intorno guardava i fari e tutti noi rapiti a guardarlo ecco è quello una solitudine pubblica sto dentro una mia dimensione la vivo e chi mi vede si appassiona a quella magia la vita che accade in quel momento se io vado con l'attenzione sull'esterno sul risultato automaticamente ti sto entrando in una dimensione esibizionistica voglio mostrarti qualcosa che non è voglio come si dice oggi dare lustro al mio ego ok non lo so utilizziamo questi termini di psicologia da osteria e niente in realtà ecco spostare l'attenzione dall'interiorità all'esteriore alla dimostrazione di sé è è il vero grande limite e poi alla lunga ci toglie il gusto per carità va benissimo oddio non mi piace dire per carità è una cosa bruttissima scusate va bene in una dimensione perché per carità de che va bene in una dimensione lo showman che si è in parte un esibizionista ci sta perché è la tipologia di spettacolo che lo richiede ma se io devo raccontare una storia io devo essere parte della storia non devo dimostrare nulla se dimostro qualcosa perdo l'occasione di raccontare la storia grazie Roberta molto gentile vi racconto questa cosa allora inizia lo spettacolo con la classica luce diciamo data da l'occhio di bue no? nei teatri più piccoli si usa il sagomatore che è quella luce diciamo che sagoma a terra da il senso a terra del disegno per cui viene illuminato il personaggio viene isolato e lui dice Serge un mio amico ha comprato un quadro è una tela di circa un metro e sessanta per un metro e venti bianca il fondo è bianco ma se strizzi bene gli occhi puoi intravedere delle sottilissime righe anche loro bianche in diagonale Serge è un mio vecchio amico ha fatto molta strada è un dermatologo e ama l'arte lunedì sono andato a vedere il quadro che Serge aveva comprato sabato e che rincorreva da parecchi mesi un quadro bianco a righe bianche buio e entri nella scena ora che cosa accade in questo monologo che tipo di monologo è quello che dicevamo all'inizio sta parlando con se stesso attenzione il classico soliloquio però abbiamo detto vi ricordate io dicevo se parlo da solo aspetta allora ieri ho fatto capito sono tutte quante frasi ok allora ieri che ho fatto no 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 ah ho sognato il fatto del vaccino con la fiata ok cioè sono tutte quante i piccoli frammenti che mi vengono in mente non compongo frasi di senso compiuto tipo Sergio un mio amico ha comprato un quadro sto parlando espressamente a qualcun altro quando abbiamo una situazione tipo questa stiamo parlando di una platea interna non so se avete visto il film Bronson dove lui dentro di sé è un bel matto un bel film strano e lui parla di una sua platea interna immagina che mentre parla lui è vestito tipo da clown no da clown cioè tipo Pierrot tutto bianco e parla una platea ok come se fosse una sua platea interna questa è la dimensione questa è la dimensione della della voce fuoricampo nel cinema è la dimensione della narrazione fatta per il pubblico e allora inquadrandolo con una luce che lo separa dalla realtà scenica è come se parlasse la voce della coscienza il pensiero fumetto nel nei fumetti ok è quel tipo di dimensione allora quando noi andiamo a fare questa tipologia di monologo la dobbiamo fare come se parlassimo a una nostra platea interna perché non possiamo farlo totalmente verticale come vi dicevo perché altrimenti le frasi non potrebbero avere senso compiuto perché che Sergio è un mio amico io già lo so perché dovrei ripetermelo non c'è motivo ok lo sto comunque dicendo a qualcuno a una mia platea dice interna definiamola così ok chiaramente stacchi da qui e poi c'hai questa scena che è molto molto carina perché è tutta quanta corporea ok immaginate che ci stanno questi due che stanno guardando questo quadro bianco davanti e chiaramente si crea questa tensione fra i due no quello che ha comprato il quadro che l'ha pagato tipo dice 200.000 franchi per cui parliamo di una cifra tipo 20.000 euro capito un importo importante no guarda il quadro come a di eh e sa benissimo che l'altro non lo conforterà in questo no perché non ama l'arte contemporanea poi un quadro bianco il nulla proprio e quell'altro e si guarda sto bianco no perché chiaramente mentre uno che ama l'arte contemporanea è l'astratto può vedere qualcosa nelle sfumature quello vede Natela bianca dice ma si sono scordati di pitturarla cioè che è successo Giorgia mi scrive può essere può essere un'intervista o da solo davanti a una telecamera comunque parlando per qualcuno che lo ascolterà non male come però un'intervista c'ha il senso dell'intervista da solo davanti a una telecamera potrebbe essere una soluzione io la trovo molto una soluzione interna per dare il senso di io immagino dentro di me che sto facendo tipo una registrazione video come questa live e allora all'esterno ti arriva una sensazione affine alla voce della coscienza come risultato ci sta ci sta ma quando finirà la quarantena dove ti possiamo trovare guarda fino a ieri ero a teatro d'use in via crema a Roma continuerà le dirette io sono di Roma fammi sapere si organizzi incontri eventi no sicuramente ne faremo Alessandra sì assolutamente sì vediamo come io non so che devo fare nel senso sicuramente stiamo procedendo e ci incontreremo avremo modo di lavorarci per chi ne avrà voglia assolutamente sì lavoro stabilmente lì lavoravo io adesso non so più come funziona ma ne usciamo ne usciamo assolutamente sabrina ho un velo comico questa è una commedia una commedia molto intelligente molto sottile mi piace molto questa commedia è un esercizio straordinario Alessandro in fase di scrittura va però scritto in maniera comunque diversa questo tipo di sorriloquio dal monologo che abbiamo visto prima sì sì ogni tipo di monologo va scritto sapendo che risultato vogliamo ottenere e chiaramente quando andiamo a studiarlo per interpretarlo dobbiamo avere chiarissimo di che cosa si tratta perché se sbagliamo è finita cioè ci porta totalmente fuori strada l'esperienza dice Tiziana giustamente intendo bisogna dare senso alla verticalità totale o quasi io parlo di verticalità quando veramente sto su di me poi in alcuni casi può essere anche semplicemente una riflessione magari sto parlando con qualcuna visto ti capita allora parli con l'entità astratta che sta sopra di te come dice Battista nei monologhi quando le donne questo è deficiente madonna mia quando parli con l'entità astratta che sta ok è quello oppure la riflessione vedi qualcuno che fa una cosa questo è scemo e te lo dici da solo no quello è proprio la riflessione verticale però come vedi sono sempre frammenti è come se parlassi a un tuo io interiore più piccolo che ti ascolta ogni tanto no tipo l'amico immaginario tipo Tony ok in quei casi non hai mai la frase di senso compiuto perché ripeto Sergio è un mio amico da solo che me lo dica fa già lo so ok dicevamo del rapporto fra i due questi guardano il quadro e a quel punto questo è molto interessante perché all'inizio del testo la prima frase che dice Mark è caro gli chiede se è caro analizziamo questa cosa che è interessante perché gli dice caro avrebbe potuto dire qualsiasi altra cosa no avrebbe potuto dire il pensiero vero ma hai comprato un quadro bianco ma che robè no oppure quanto l'hai pagato la frase iniziale è caro che vuol dire uno vado a parare sul discorso prezzo e non ci vado facendo la domanda diretta ma spero che non sia caro ok può essere un approccio sarcastico ma morbido non solo vado a escludere tutta quanta la parte della valutazione del merito proprio perché avrei difficoltà a parlare nel merito di una cosa che non esiste e allora approccio in quel modo caro risposta dell'altro 200.000 200.000 parliamo di franchi per cui parliamo di 30.000 euro 30.000 euro ce ne compri una Volkswagen ce ne compri due a me ok interessantissima come cosa no perché l'altro che azione fa anziché rimanere su è scontro diretto ne approfitta e dà una botta diretta ok non gli dice sai non si giustifica arriva frontale 200.000 come a dire e allora ho fatto un acquisto importante e da lì nasce il contrasto immediato come vedete con due battute stiamo già dentro la storia caro 200.000 200.000 andington me lo ricompra 220 e chi è andington la galleria la galleria te lo ricompra no 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 proprio lui personalmente e allora perché non se l'è comprato lui direttamente perché ai galleristi conviene comprare dai privati è così che si crea il mercato e allora gli chiede guarda un po' ti piace poi gli fa da qui non lo vedi bene guardalo da qui sempre bianco è insomma alla fine quello gli fa dice ma hai speso 200.000 franchi per questa merda cambio e torniamo e andiamo al pensiero di lui di Serge che ha ricevuto l'insulto e Serge dirà sempre con la luce puntata Mark è un ragazzo intelligente che stimo da sempre un ingegnere aeronautico una bella posizione uno di quegli intellettuali di prima generazione che non solo avversano tutto ciò che è moderno ma senza una vera ragione se ne vantano pure il suo atteggiamento pacato di una volta si è trasformato in eccentrica arroganza e anche questo è voce pensiero ok a che cosa serve tecnicamente così come nel cinema la voce fuori campo ci introduce nella storia è una soluzione anche le immagini possono introdurci nella storia in alcuni casi si può utilizzare la voce fuori campo che ci fa entrare nel meccanismo nel teatro si utilizzano si possono utilizzare o le voci narranti come nel teatro ad un tempo o in questo caso è il personaggio che diventa voce narrante di se stesso nel fare questo glielo fa fare l'autrice come voce pensiero e questa è un'altra tipologia di monologo che oggi abbiamo visto per cui abbiamo detto il monologo può essere di vario tipo può essere un testo intero può essere una porzione di testo può essere un dialogo diretto per cui abbiamo estrapolato come abbiamo fatto con Carnage dei dialoghi addirittura delle telefonate dal testo possono essere dei brani che noi estrapoliamo ad esempio ecco il caso del brano specifico come può essere l'avvocato o la risposta del testimone Isaac è bellissimo questo testo si è molto bello a me piace tantissimo alla fine di questo percorso sarò cresciuto come la tua pianta di bonsai troppo forte guarda ho avuto un periodo di sofferenza e adesso che sto più in casa sembra che stia credo che insomma mi voglia bene e vediamo come cresce ormai la vediamo insieme ormai fa parte della nostra grande famiglia delle 19 bene questo è un testo molto interessante molto bello devo dire vi sto proponendo tutti quanti i testi che utilizzo anche il remuore per esempio l'ho utilizzato in un corso una decina d'anni fa è un testo particolare poi il teatro dell'assurdo è una modalità è un modo di fare teatro molto particolare che peraltro noi in alcuni casi da quello che ho visto in alcune messe in scena non l'abbiamo capito proprio bene nasce come dice in caso suo Ionesco il cui nome oggi fa ride tantissimo nasce come un tentativo di raccontare qualcosa in parallelo con un linguaggio anche astruso o con dei meccanismi che poi risultano comici perché paradossali perché illogici art non è fermare art è art intesa come arte art a Roma è lo stop il cartello il remuore è un testo questi testi dell'assurdo sono un po' particolari nel senso vanno interpretati dobbiamo saperli interpretare in parallelo rispetto alla realtà se noi spesso mi è capitato di vederli messi in scena così diventano noiosi perché se noi ci ancoriamo direttamente alle stupidaggini alle battute alla modalità espressiva a quello che tu vedi Antonio Rezza va oltre va oltre non è un teatro dell'assurdo è sempre un teatro sperimentale ma a parte è molto corporeo il teatro dell'assurdo ha una sua costruzione logica e un suo linguaggio in genere è questo il suo linguaggio è assurdo è paradossale Antonio Rezza è più un performer è un non lo definirei teatro dell'assurdo è un tipo di è una cosa tutta sua è un modo particolare sì io anch'io l'ho visto ed è strano è divertente però il teatro dell'assurdo è raccontare una storia poi dipende perché poi ci sono testi a testi è il suo reale ok nel cinema io definirei fantozzi cioè è una storia che ha una sua concretezza però è raccontata in un modo surreale ma mi racconta la realtà Antonio Rezza lo vedo più come un'astrazione e poi è molto personale che non c'è una storia c'è sempre su tutti i frammenti modi non lo metterei noi abbiamo avuto il grande campanile sì che è un tipo di comicità sì 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 assolutamente non so se inquadrarlo in questo tipo di di genere però sì è simile Rezza è geniale sì Kafka no forse no sia nel teatro dell'assurdo è più Pinter con i primi testi teatro dell'assurdo senza dubbio ci rientra Ionesco Ionesco rientra Beckett questi sono gli autori di teatro poi dipende magari il singolo testo ok però è quel tipo di teatro onestamente non è che mi faccia impazzire però qual è la struttura è mettere in parallelo una realtà spostandola gonfiandola rendendola diversa sia nel nella modalità espressiva che nel nell'immagine però in parallelo la riconosci vi facevo l'esempio di fantozzi perché se tu guardi il film è assurdo succedono cose che non succedono però sono quelle cioè gli impiegati che vanno tipo macchina e addirittura che hanno creato coi fili l'immagine dell'impiegato che si muove e poi in realtà stanno cioè lui che rimane appiccicato alla finestra mentre vede il gol dei mondiali il desiderio di guardare il gol dalla finestra oppure cado sull'autobus per arrivare al lavoro insomma è una caricatura sì come dice Andrea ma che ti lascia il sapore della verità ecco questo dal punto di vista interpretativo io devo rendere naturalmente cioè io devo vivere all'interno in maniera realistica quella realtà la realtà scenica e chiaramente nel linguaggio e nella costruzione scenografica e tutto il resto la macchina è una macchina che crea una caricatura ma io dentro devo viverla è lì che noi rischiamo come attori perché se io vado ad accompagnare la caricatura non fa più ridere cioè Fantozzi fa ridere perché lui soffre perché i personaggi ci stanno dentro e sono immersi in quella realtà tu li guardi da fuori e sono ridicoli però attici medesimi perché ti rendi conto che pure tu sei immerso in quella realtà ok e lì funziona Fiori di cactus è una commedia non è teatro dell'assurdo il monologo si ve lo pubblico questo qui del quale tutto poi lo pubblico insomma adesso lo riprendo e ve lo mettiamo sulla pagina chiaramente se lo trovate pure voi postatelo io lo fotografo lo trovo insomma riesco a farvelo avere Fiori di cactus non è teatro dell'assurdo è più commedia brillante un po' sopra le righe non è realistico è una commedia però il teatro dell'assurdo è più paradossale sia come il linguaggio che come messa in scena complessiva come racconto ok niente abbiamo passato insieme anche oggi un'ora spero che sia stata una bella ora per me lo è stata e siamo delle no Renato siamo bravi aspettando Godot ecco l'esempio più eclatante è il teatro dell'assurdo aspettando Godot sì e e adesso aspettiamo la prossima lezione io vi chiedo di chiedo la vostra presenza chiedo ufficialmente la vostra presenza perché domani faremo una lezione molto importante parleremo del cinema come funziona dal punto di vista attoriale quali sono le tecniche apro questo mondo io in particolare faccio un seminario che poi diventa abbiamo vinto addirittura il premio vi raccontavo con hard work che abbiamo fatto dopo questo seminario eccetera per cui ecco affrontiamo questo discorso che mi preme molto è molto interessante spero che faccia piacere anche a voi vi aspetto domani grazie a tutti buona serata ciao grazie grazie ciao ciao